Buonasera, benvenuti sul canale YouTube PapiJu. Questa sera cominceremo ad occuparci di una figura che ha avuto un grande ruolo nell'arte del profumo che è Gabriele D'Annunzio. L'occasione di parlare di Gabriele D'Annunzio e del suo rapporto con il mondo del profumo è venuta grazie a un evento che si è tenuto al Museo della Seta di Como in concomitanza con una mostra attualmente proposta al museo fino al 31 luglio che si chiama La storia della cravatta spina dorsale di un uomo. Quindi questa mostra ci ha dato l'ispirazione per parlare di profumeria al maschile e quindi abbiamo iniziato con Giuseppe Visconti di Modrone e il suo ruolo nella produzione profumiera e abbiamo visto che Giuseppe Visconti di Modrone aveva dei contatti molto stretti con Gabriele D'Annunzio il quale ha avuto un ruolo talmente grande talmente importante nella storia della profumeria che pochi conoscono e che vale la pena in qualche modo approfondire. Abbiamo deciso di partire da qui soprattutto pensando alla capacità di Gabriele D'Annunzio di interpretare veramente lo stile di un'epoca. Lo vediamo nella slide. D'Annunzio fu un vero e proprio arbiter eleganziaro ma del periodo in cui viveva. Il suo guardaroba era ricchissimo di paletto a tre bottoni, di divise militari, di giacche, di vestaglie in seta e di scarpe. Queste scarpe con pellami pregiatissimi che venivano realizzate dalle più importanti case produttrice sia italiane sia francesi. Importantissimo per noi è ricordare che Gabriele D'Annunzio era un dandy ovviamente raffinatissimo ma era anche un grandissimo innovatore e si può dire che in qualche modo lanciò l'attività di personal branding in quanto all'interno del suo raffinatissimo guardaroba si trovavano delle iscrizioni in cui si riportava Gabriele D'Annunzio vestiarius fecit. Quindi Gabriele D'Annunzio realizzò questo indumento piuttosto che la sua firma piuttosto che le sue iniziali. Quindi Gabriele D'Annunzio anche stilista, creatore e poi la realizzazione veniva affidata, come dicevamo, alle più importanti case di moda dell'epoca e della sua epoca. Quello che però ci ha veramente intrigato e ci ha portato a dedicare un incontro ad Annunzio è stato il fatto che fu anche un grandissimo collezionista di cravate. Non cravate qualsiasi ma le cravate di Michi. Chi era Michi? Beh nel 1920 un viaggiatore gentiluomo che rispondeva al nome di Johnny Chichini che aveva uno stile molto sofisticato ma anche audace e rivoluzionario lascia l'Egitto e si trasferisce a Milano esattamente in via Ripamonti 44 e qui fonda una sartoria che diventa anche una produttrice di cravate assolutamente innovative. Quindi Michi rivoluziona lo stile dominante dell'epoca introducendo tessuti colorati, fantasie sofisticate e variegate che ben presto conquistano tutti i vari circoli europei ma anche negli Stati Uniti lo stile Michi si diffonde e porta veramente una ventata di novità. E tra gli estimatori delle cravate Michi c'è anche Gabriele D'Annunzio che le definisce in una lettera che vediamo qui nella foto perché conservata negli archivi della sartoria eleganti e magnifiche. La lettera è del 1927 e vi si fanno anche gli auguri di Pasqua. Oggi Michi è ancora in attività ed è una realtà produttiva interessante di accessori di abbigliamento come cravate, papillon, pochette, charpe, foulard, sia per uomo sia per donna. Quindi pensando a questo non potevamo certo trascurare di considerare Gabriele D'Annunzio un soggetto interessante per il nostro narrare. Gabriele D'Annunzio che impose i suoi gusti in fatto di moda anche alle sue numerose amanti, le quali dovevano presentarsi al suo cospetto eh con abiti e accessori che aveva curato lui stesso con rigore maniacale. Pretese tanto alte venivano però eh ampiamente ricompensate. Le signore ricevevano dei doni veramente preziosi. Ogni lettera di D'Annunzio era accompagnata generalmente da foulard di seta che lui stesso dipingeva e questo è un altro legame con il luogo che ha ospitato il nostro evento e è collegato anche a un'espressione colorizzo le stoffe contenuta in una frase che farà un po' da leitmotiv per il nostro racconto come vedremo più avanti. E ovviamente tra i regali che le signore ricevevano c'erano anche dei profumi e questo ci porta appunto in media stress a parlare del nostro argomento. Per iniziare a parlare del eh rapporto tra Gabriele D'Annunzio e profumi mi sono basata come faccio spesso ancora una volta su questo preziosissimo libro che è il profumo della letteratura un'antologia di saggi a cura di Daniela Cianisforza e Simone Francescato che contiene appunto eh saggi tra i più diversi e tra questi c'è il naso voluttuoso di Gabriele D'Annunzio dalle lettere al suo profumiere che è stato compilato dal D'Annunzista Pietro Gipellini e eh Gipellini ci parla appunto di un rapporto molto privato che si va sviluppando tra Gabriele D'Annunzio e il farmacista di Gardone Riviera dove Gabriele D'Annunzio si era appena trasferito eh che eh soccorre con medicine le cornie di ogni genere che erano una delle manie dell'ultimo D'Annunzio e anche un profluvio di profumi pagati a prezzi eh vertiginosi. Tutto il carteggio che era molto folto e che intercorse fra Gabriele D'Annunzio e Mario Ferrari così si chiamava il farmacista di Gardone modenese di origine di origine patrizia appassionato di botanica che quindi riforniva il vittoriale anche di fiori eh veri il carteggio dicevo è stato raccolto dal figlio di Mario Ferrari Giulio e poi consegnato a un'altra insegna ed annunzista Elena Ledda la quale ne ha curato la pubblicazione e dagli scambi epistolari che il Gibellini seleziona emerge il D'Annunzio privato spesso tanto più meschino dello scrittore assoluto un uomo che a volte ci appare dispotico egoico eh che sperpera delle somme eh propositate in profumi e di cui fa un uso smodato e quindi in qualche modo per noi anche impossibile da comprendere e da amare ma le lettere sono anche una testimonianza preziosissima per noi che studiamo questo argomento perché ci indicano quali erano le fragranze più preziose ma anche più innovative e più apprezzate in quegli anni quindi D'Annunzio ci appare in qualche modo ancora una volta precursore dei tempi come un grandissimo appassionato di profumi di nicchia e quindi ho voluto estrapolare qualche citazione per vedere di condividerla insieme a voi in modo da eh cogliere appunto quelli che sono eh i punti più interessanti dal punto di vista della ricerca e della storia del profumo mi consenta di tenere le cassette di profumi fino a domani perché non ho ancora finito di scegliere trattengo otto scatole di saponi ho bisogno di altre quattro grandi bottiglie di colonia erba se ce ne sono anche piccole me ne mandi due perché io le conosca e qui abbiamo già una prima eh interrelazione un primo rimando a eh Carlo Erba quindi alla ditta eh per tanti anni gestita e diretta da Giuseppe Visconti di Modrone a proposito di aromi veggo che i prezzi dell'essenze aumentano ancora anche quelle ormai vecchie di Lubin e Guerlain quindi c'è questo consumo continuo di profumi che D'Annunzio vuole sempre nuovi intanto alla mia mania di profumi non bastano le gardenie gigantesche abbiamo detto che Ferrari gli mandava anche fiori veri che facevano impazzire i giardinieri del vittoriale che in qualche modo si sentivano in competizione con questi meravigliosi fiori del farmacista mi mandi la solita cassetta di essenze grazie aggiungo l'ire solite grazie e poco dopo nel 1926 a inizio gennaio la provvista di profumi è finita le mando una lista dei profumi che preferisco per evitare l'ingombro di quelli che non hanno ho ricevuto il dono del Caron mi piace il Kismet di Lubin ne ha ancora tutti i profumi se ne sono andati in fumo di già e qui siamo nel 1926 Kismet in turco significa destino e questo profumo particolarmente raffinato che porta il nome del destino era legato all'immagine che vedete nella slide di questa donna che si volle ammantare dell'identità di una principessa persiana in realtà era una spia turca e qui troviamo un altro parallelismo con Giuseppe Visconti di Modrone in rapporto con Matari e Dimitisi ricevo la nota e mi stupisco che l'agio del cambio non agevoli il commercio dei profumi perché 325 lire il mediocre nuit de noël e il cofanetto dell'enteric 700 lire lo donai ieri appunto a donna Liliana Teruzzi la chassè è ottima e ne vorrò ancora e ma duecento lire per alcune gocciole compiuti il lamento del mio naso voluttuoso le accludo cinquemila lire su questo conto di essenze preziosissime e la prego di rimandarmi tutte le novità acquisto anche i profumieri di vetro che la mando all'altrieri ne vorrei ancora due o tre rotondi ne ho già due simili a pomi arance in color giallo o arancio perché d'annunzio acquista dei portaprofumo bene Gabriele d'annunzio rimane d'annunzio anche scrivendo di cose minime e quindi davvero patito della forma vuole che i contenitori che acquista per i suoi profumi siano all'altezza del contenuto e sovrapponendo l'arte alla natura chiede flaconi a forma di pomi o di arance e continuo mi dia notizie di caron è il caso di dire col dante di manerba caron di monio con occhi di bragia ne ho bisogno tra il 22 e il 23 prossimo grazie e continuo ancora ho ricevuto i profumi me ne mandi alcuni altri non gli spruzzatori perché gli spruzzatori si evince da altre lettere che si si rompevano o la cannetta di gomma si ripiegava quindi in qualche modo gli dava una noia ed annunzio non ne voleva sapere l'antric o ubigan ha un profumo dal nome giapponese che non ricordo mi piace questo era mitsuko di guerlain quindi l'antric e ubigan non c'entrano nulla a volte d'annunzio fa un po' di confusione con le case produttrici ho ricevuto i profumi tra i nuovi l'emant è ottimo sia tuttora una jassie me la mandi e anche del caron nuit de noël 28 settembre 1928 d'annunzio volubile cambia idea quel nuit de noël che gli pareva così poco significativo diventa qualcosa di necessario interessante e opportuno le mando un assegno di 16.000 lire per saldare la nota farmaceutica di luglio e la dolorosa dei profumi 16.000 lire nel 1929 era una somma veramente pazzesca ho un milione americano depositato alla banca commerciale ma non posso prenderlo se non dopo aver consegnato un libro che scrivo e qui comincia a delinearsi il libro segreto di gabrile d'annunzio tentato di morire il suo ultimo grande capolavoro continua d'annunzio perciò non posso pagare oggi il conto dei profumi profumato ma ho bisogno di pochi profumi specialmente di quelli che la chanel numera il milione immobile è garante non ho più profumi ora prediligo quelli di chanel sebbene scarsi scarsi per quantità e di alto prezzo resto però fedele ad alcune essenze di coty cipro jacé e ma rocha minu di quest'ultima me ne mandi più d'una se ne ha io adoperò l'eau de colonie tra fine du bigan per le frizioni c'è una colonia di coty a tuttora l'eau de toilette di lubin o rovina la mia nota deve essere vertiginosa le accludo intanto queste 10.000 lire l'eau de cotie che non conoscevo io che conosco tutto mi piace molto adoperò sempre l'eau de cotie ma la grande bottiglia è incomoda sebbene solenne mi sfugge di mano l'invio delle acque nanfe l'acqua nanfa in nel rinascimento era un'acqua a base di fiori d'arancio e vedremo quanta influenza queste acque nanfe soprattutto quelle create da isabella d'este ha sull'immaginario olfattivo di dannunzi dicevamo l'invio delle acque nanfe e della valigetta chanel ma è graditissimo quindi passato e futuro esattamente insieme se allo de cotie me ne mandi in quantità che ne adopero di continuo nel mio bagno non resisto alla voglia di sperperare ogni cosa nuova desidero anche odolubin ho fatto l'incantatore di serpenti fino ad ora e mi dispongo a prendere il bagno magico ma mi accorgo che l'essence aromatique de Molmar è esausta e sbaglia un'altra volta si tratta di Molinar non Molmar la conosce poche gocce bastano a render tonico il bagno e a profumarlo in guisa di pratteria primaverile se non ne ha me ne procuri per l'avvenire ne prenderò almeno sei fiale ecco il vetro vuoto mi mandi se può la magnolia e la gardenia di chanel o il sicomore e poi d'annunzio continuo e chiedo profumi 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 non ho bisogno di rossi per le labbra per i capezzoli né di polveri di cipro la prego di trovarmi qualche essenza di rosa non quella di Ubigin e del cipro di Coty o il sicomore di Chanel le provviste che avevo quando le due damigelle degli odori partirono sono esauste posso avere oggi nuovi profumi ho anche bisogno di colonia e di lavanda inghilese Yardley e anche questo caso la marca è sbagliata perché si sta riferendo a Yardley come ben sanno a coloro che hanno seguito i video e hanno hanno visto i video nella sezione dedicata alla storia della profumeria inglese la prego di dirmi se sia ancora possibile dopo questo ritardo l'acquisto del quale la mi scrive può telefonare sì o no e manderò subito di profumi non mi resta che una bottiglietta di po de spagna siamo al 16 gennaio del 34 d'annunzio morirà nel 38 quindi siamo veramente agli ultimi bagliori di Gabriele d'annunzio e comincia a confondersi quindi ha perso le lettere del Ferrari e ha bisogno come se fossero una droga necessaria di questi profumi e continua con l'ultima lettera che prendiamo in considerazione quella del 30 agosto del 1936 ecco 12.173 lire per i profumi e mi stupisco di aver trascurato le note dal gennaio e la prego di mandarmi una scelta di profumi che non rimangono se non poche stille per eccessivo pellegrinaggio di badesse scomunicate mercoledì o giovedì la pregherò di salire al vittoriale per parlare ed accordarci d'annunzio resta d'annunzio anche nella nel carteggio nel nel modo di di porsi ai confronti di Mario Ferrari e in controluce nel chiaroscuro di questo carteggio filtrano le vicende esterne del d'annunzio gardonese frusciano vesti muliebri come quelle di Angèle Gé l'amante ribattezzata Jouvance che diede al vecchio Don Giovanni l'illusione di poter bere ancora qualche sorso alla fontana della giovinezza quelle di Luisa Baccara la signora del vittoriale o di Amélie Masoyer soprannominata Elis la governante tuttofare che il reduce di fiume si era portato dalla Francia tanti profumi se ne vanno con un'amica pittrice in cui si è voluta vedere adombrata la polacca Tamara Dell'Empica con le nobildonne di passaggio con le numerosissime badesse scomunicate frequentatrici della fastosa e malinconica garçonnier dell'attempato e acciaccato libertino al farmacista d'annunzio chiede farmaci per rimediare ai malanni legati alla turpe vecchiezza qui si rifà a un verso degli amori di Ovidio turpe senex miles turpe senilis amor e turpe un soldato anziano e turpe un amore senile e nel suo ultimo capolavoro il libro segreto tentato di morire proprio ricorre questo turpe collegato con la parola vecchiezza ma al farmacista chiede anche 25 grammi di una sostanza rimasta non nominata quindi segreta da utilizzarsi in un'opera un corpo femminile in cera che d'annunzio andava plasmando modellato per giochi magico erotici travolute incensi a cui l'aveva iniziato la stravagante marchesa luisa casati ma nelle lettere al ferrari emerge anche un altro profumo quello amaro del tempo il tempo che passa e che d'annunzio sente dentro di sé facendo alla morte del grande scenografo russo che a parigi aveva messo in scena il suo martir de san sebastian al solstizio che è un momento sacro per i suoi riti profani sulle missive si stende l'ombra dei libri promessi e rimasti incompiuti i cui proventi avrebbero dovuto finanziare gli acquisti di queste specialità procurate dal farmacista in quantità tali da richiedere il pagamento di cifre da capogiro via via versate dall'incorreggibile prodigo incapace di resistere alla voglia di sperperare sono specialità preziose per l'ex campione di gesta eroiche che ora si dedica solo a quelle erotiche e letterali il maestro di farmachiaromi il farmacopola come lo chiama d'annunzio nel carteggio soccorre con entrambi con farmaci e con aromi sia il maturo scrittore investa e tentato di morire sia l'amatore senescente in vestaglio con pillole medicinali certamente ma anche con le preziose gocce di profumo che possono allontanare dall'era senile il sospetto della turpitudo e insufflare la forza ispiratrice necessaria per concludere la ciclopica opica a cui d'annunzio si sta dedicando vi chiedo profumi 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 l'abbiamo visto senza virgole l'abbiamo letto come un grido in cui risuona un bisogno di volutà e di medicina che è la dimensione dell'ultimo d'annunzio un uomo al crepuscolo che un'esistenza crepuscolare vive in quel vittoriale monumento a se stesso mausoleo a un eroe ancora vivente ma ingombrante scomodo per il regime fascista è nota la frase di mussolini che disse di dannunzio è come un dente cariato o lo si estirpa o lo si ricopre d'oro si decise di ricoprirlo d'oro ma di isolarlo di esiliarlo in questa meravigliosa e magica dimora abbiamo fin qui letto i desideri egoistici perentori dispotici di un individuo sgradevole nel fisico e anche rude in qualche modo nel modo di interloquire con il ferrari con il quale è sempre molto secco pur trovandosi dalla parte del torto perché fondamentalmente gli è di grandi somme debitore perché allora i tributiamo tanto interesse a gabrile d'annunzio e addirittura vogliamo dedicargli un'intera sezione della nostra trattazione per tutta la serie di motivi che andremo elencando e vedendo insieme d'ora in poi e che ci raccontano di un raffinatissimo esteta di un sopraffino distillatore di profumi di un giallo rinascimentale e di una dimora incantata e partiamo proprio da questa il vittoriale degli italiani e l'odorarius mirabilis qui vediamo delle immagini meravigliose di una mostra che ha avuto luogo al vittoriale a cavallo tra il 2018 e il 2019 questo è il catalogo della mostra e all'interno del catalogo veramente possiamo scorgere meraviglie oltre a un preziosissimo testo iniziale che tanto ha influenzato le mie ricerche mie studi che vado condividendo con voi oggi in anni recenti una gestione e una valorizzazione del vittoriale come luogo museale lo hanno reso veramente un sito museale di incredibile interesse di recente lo trovate nei video sulle rose d'autunno ho ricordato appunto la ricostruzione del roseto e la creazione di una rosa gabriele d'annunzio profumo di rosa di cui parleremo molto affrontando il tema del piacere e quindi questa mostra è stata un omaggio che il presidente della fondazione vittoriale degli italiani giordano bruno guerri ha voluto prestare all'attività profumiera di d'annunzio che è stato magistralmente allestito da uno scenografo che è una delle nostre glorie nazionali di fama mondiale pier luigi pizzi curato con altrettanta raffinatezza ed eleganza da paolo aggoretti e che ha dato anche lo spunto a un altro imprenditore che mi sentite citare spesso marco vidal amministratore delegato di the merchant of ennis e direttore commerciale di ma vive per dare il là alla creazione di una serie di fragranze chiamate i profumi di d'annunzio che sono proprio ispirate alle opere più famose del vate o anche alle personalità con le quali si è trovato a interagire con le quali ha condiviso la sua vita eleonora dulze in primis e proprio la curatrice della della mostra paola goretti all'interno appunto dello scritto che precede la parte iconografica del catalogo ci spiega quanto stretto fosse il rapporto che d'annunzio aveva con il profumo proprio nell'ambientazione del vittoriale c'è questa frase che come vi ho detto ci accompagna come un light motive nella nostra analisi che d'annunzio scrive descrivendo in qualche modo la sua vita sul garda e al vittoriale usando le seguenti parole io stesso batto il ferro soffio il vetro incido le pietre dure stampo i legni con un torchietto colorizzo le stoffe l'abbiamo visto prima intaglio l'osso il bosso sottilizzo i profumi e interpreto i ricettari di Caterina Sforza quindi in questa frase che racconta della vita quotidiana al vittoriale noi capiamo con questa frase capiamo di essere ben lontani da quel vampirismo erotico quasi necrofilo di cui i detrattori tacciarono l'ultimo d'annunzio quello chiuso nella propria residenza degli ultimi anni abbiamo invece un'immagine luminosa in cui il vittoriale splendida creazione del suo illustre abitante rifulge di un'operosità artigiana e antica e tra le molte attività d'arte che il poeta vuole sperimentare c'è la sottilizzazione dei profumi ossia la distillazione la produzione quindi d'annunzio non solo vorace consumatore di elisir profumati ma appassionato creatore e non soltanto ma secondo ricettari antichi quindi il vate riporta alla luce delle ricette del passato le rielabora e le riadatta alla sua epoca con un grande studio traendole da testi preziosi e praticamente introvabili che un'altra bulimia quella del bibliofilo collezionista porta nella sua sofisticatissima biblioteca di gardone accenniamo a un passato e torneremo sull'argomento note per la ricetta dell'acqua nunzia che è stata la sua creazione più famosa nel campo della profumeria applicata si trovano appuntate tra le pagine di un testo stampato nell'ottocento nel 1833 da romanoia a bologna a cura di olindo guerrini che è il ricettario galante ma che in realtà è una riedizione di un testo del principio del sedicesimo secolo ne parleremo più avanti quindi d'annunzio poi ancora di più cita espressamente caterina sforza quindi dice interpreto i ricettari di caterina sforza e io vi avevo promesso abbiamo anche un altro testo sempre tratto dalle ricette di caterina sforza io vi avevo promesso un giallo rinascimentale e quindi lasciamo gabriele d'annunzio alle prese con le sue creazioni profumate in quei laboratori chiusi dietro la prioria del vittoriale così simili in qualche modo ai laboratori rinascimentali di caterina sforza con storti alambicchi e tutti i suoi strumenti quindi lasciamo d'annunzio a comporre e addentriamoci invece nella milano a cavallo tra 400 e 500